Bufera sulle CSM, il equinale fiducia incrinata, ottobre elezioni subiettive per due componenti, sostituzione primo passo per voltare pagina. Si dimette terzo consigliere, il PG di Cassazione, un imputato accondizionato alla scelta del futuro procuratore di Roma, lotti su dimesso lo fango. Eurogruppo a Lussemburgo, Dombrovskis all'Italia, serve correzione dei conti, Tria, no manovra bis, raggiungeremo gli obiettivi. Salvini, rechiare su risposta a Ue, Di Maio difendere il paese, maggioranza divisa sul radio radicale, opposizioni, governo fuori controllo. Oman, attaccate due petroliere, Washington non esclude un intervento militare nell'area e accusa, è stato l'Iran, Mosca frena, conclusioni affrettate, riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza, ONU, schizza il prezzo del petrolio. Benvenuti all'edizione della notte del Tg1, dopo la bufera che ha investito il Consiglio Superiore della Magistratura, il Quirinale ha indetto per il 6 e 7 ottobre elezioni suppletive per due membri dimissionari. Grazie. Grazie.